ciao a tutti amici di youtube bene questa è la seconda volta che registro l'audio perché come al solito mi dimentico di accendere il microfono vabbè comunque eccoci qui con un nuovo video questa volta in digitale appunto ho realizzato un video con photoshop e ho raffigurato questo abito che vabbè io adoro fatemi sapere se anche voi lo adorate così tanto come lo adoro io perché secondo me è veramente fantastico comunque è un abito di gian battista valli che l'ha realizzato per hm e mi chiedevo qualcuno di voi l'ha già acquistato è veramente così bello come lo vediamo indossato alla nostra meravigliosa chi è che è il genere non ce l'ho presente vabbè comunque mi confondo sempre da di loro se ho sbagliato ditemi qui sotto nei commenti come si qual è il nome suo giusto perché vabbè lasciamo stare e dunque ragazzi il procedimento del disegno è sempre il solito dovete realizzare più livelli per andare a disegnare ad avere un tratto un po più pulito io premetto che è un disegno che ho fatto in circa un'ora quindi è stato un disegno abbastanza veloce molto stilizzato le linee sono abbastanza come potete vedere non sono belle pulite ma ho voluto dare appunto questo stile al disegno quindi è voluto e poi come potete vedere successivamente anche il colore non è il solito non ho dedicato tanto tempo appunto questo disegno è un disegno colorato in maniera molto stilizzata quindi c'è una base di colore poi dopo viene creata un'ombra e appunto delle linee che creano un effetto luce è molto veloce io spero che vi piaccia e mi scuso che comunque non sono molto presente sul canale e anche sulle mie pagine facebook e instagram anzi per chi non mi seguisse fatelo fatelo scherzo vabbè non voglio forzare nessuno perché non mi piace appunto che preferisco averne pochi ma buoni anche sul canale appunto mettete like se il video vi piace poi se non mi piace fatemelo sapere nei commenti perché non mi piace cosa c'è che non va cosa vorreste che io migliorarsi appunto nei miei video e niente ragazzi io spero che voi appreziate e spero di rivederci presto ma appunto sono molto impegnata quindi non vi prometto nulla comunque in caso se vorreste vedere qualcosa nello specifico fatemelo sapere qui sotto nei commenti che magari potrei prendere spunto per i miei prossimi video e nulla io vi mando un grosso bacio ci vediamo in prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao